Troncare lo spaccio e il consumo di droga tra i più giovani. E' questo l'intento di quattro comuni lucani, che hanno presentato i propri progetti nell'ambito dell'iniziativa ministeriale Scuole Sicure. Una dotazione finanziaria di oltre 50.000 euro permetterà alle amministrazioni di Lauria, Lavello, Melfi e Rionero Invulture di mettere in campo programmi di prevenzione per il contrasto alle tossicodipendenze in ambito scolastico. Dall'installazione di sistemi di videosorveglianza all'assunzione di nuovi agenti di polizia locale, dal pagamento degli straordinari ai vigili in servizio fino alla realizzazione di campagne informative a scuola. I progetti sono stati discussi in Prefettura a Potenza nell'ambito di una riunione del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica. L'obiettivo è proprio quello di prevenire un fenomeno che, devo dire, dai dati che stavamo analizzando in queste ultime ore, dopo la pausa del bienio dell'emergenza pandemica, fa registrare, ahimè, una lieve risalita. L'attenzione delle istituzioni, in ogni caso, rimane altissima su tutti gli istituti scolastici provinciali. Il fenomeno dello spaccio in prossimità degli istituti scolastici. È un tema, mi rendo conto, molto delicato, ma è un tema sul quale abbiamo chiamato a raccolta, oltre che gli amministratori, anche i dirigenti degli uffici scolastici, innanzitutto quello regionale e provinciale, e poi i dirigenti degli uffici scolastici.